Il progetto dell'Ariano non è solo quello di creare una bellissima squadra, creare l'entusiasmo della prima squadra ma è quello di farli scendere in campo e di vincere tutti quelli che comunque sono i titoli e il campionato ma è quello di creare a tutti gli effetti e con questo mi rivolgo maggiormente ai giovani un'accademia sportiva dove tutti i giovani del nostro paese, delle contrade di Ariano e anche i paesi limitrofi si possono accanire, affezionare a quello che è uno sport importantissimo e molto educativo che è comunque il calcio tutti abbiamo sognato di diventare dei campioni, di essere dei campioni io da ragazzino volevo essere come Maradona però immagino che i ragazzi di oggi aspirano a diventare Ronaldo, Messi, Mappé però non ci siamo chiesti come faranno, come possono fare questi ragazzi a diventare dei campioni ovviamente io sono di qua, sono di Ariano e sono un ex calciatore anche se non conosciuto mi ha spinto il fatto che non c'è una vera e propria attenzione e entusiasmo su quello che è con quel calcio spero di riuscire a coinvolgere il più possibile il pubblico, le persone, i giovani in questo sport bellissimo e cercare di riportare la squadra di Ariano il più in alto possibile sperando di arrivare nei prossimi anni alla Serie D, speriamo di arrivare a quello Siamo veramente felici di sponsorizzare l'Ariano Calcio che è nel nostro cuore quindi nelle nostre tradizioni come Ariano, squadra e quindi con molto piacere facciamo questa cosa appoggiamo l'Ariano insomma Grazie a tutti